Potenza ha riscattato l'attaccante Nicolò Romero dal Bari. L'operazione si è conclusa con una cifra pari a 1000 euro. Il giocatore era arrivato in presso il rosso-bru lo scorso anno nell'ambito dell'operazione che ha portato in Puglia Pietro Cianzi ed un suo eventuale riscatto era legata alla salvezza dei Lucani. Nuovo obiettivo per il centrocampo del Palermo. Il rosa-nero sarebbero puntato su Enrico Zampa, classe 1992 al Potenza nell'ultima stagione in Serie C. Nativo di Frascati, cresciuto nelle giovanili della Lazio. Per lui anche tre presenze in Europa League e uno in Serie A con Eddie Reia in panchina nella stagione 2011-2012. Zampa vanta una lunga militanza nella terza serie con le maglie di Ferral Pisaro, Rieti, Monopoli, Ancona e Sarandana e due stagioni in B con Terni e Trapani. Il giocatore abbia già espresso il proprio gradimento per l'avventuale trasferimento in Sicilia. Grandi manovre in casa Taranto sarebbe vicino all'applodo in rosso-blu anche il centrocampista dell'avello Lorenzo Longo mentre sempre più il club bellucano abbia chiesto informazioni sull'attaccante Lorenzo Riurni. Virtus Francavilla scatenata, Niccolò Chiarubina difensore dell'Arezzo e Riccardo Bruggia esterno di proprietà dell'Atalanta già visto in Irpina lo scorso anno sarebbero ad un passo da raggiungere la Puglia. Occhi puntati anche su Mario Pezzoso. Il centrocampista della Virtus è già stato nel primo anno di Lega Pro con il tecnico Roberto Taurino. Il centrocampista della Virtus è stato nel primo anno di Lega Pro con il tecnico Roberto Taurino.